Ciao a tutte e a tutti e benvenuti alla 1, 2, 3, 31esima puntata di C'era una volta il Pressbook, dottor Pressbook, dal vostro dottor Pressbook Emanuele Carioti, eccolo qua. Oggi esaminiamo Rocky 3, ecco qua il Pressbook con le fotografie che ci erano dati e ci fanno compagnie anche due vecchi guantoni da box. E qua, allora, cosa succede? Succede che questa è una puntata di Pressbook evocativa, perché? Perché Rocky 3 è dell'82, del 1982, l'uscita in America è stata il 28 maggio dell'82, mentre in Italia il 10 settembre dell'82. Io nel settembre dell'82, avevo 9 anni, qualcuno dice novembre dell'82, ma in realtà la proiezione stampa fu fatta nel settembre dell'82. Ero lì perché in Italia non era vietato ai minori di 12 anni, mentre in altri paesi nel mondo era vietato. Ma prima vediamo questa cosa. Quindi evocativo perché quasi 40 anni fa, oggi lo diciamo, siamo al giovedì 18 novembre 2021, quindi sono passati quasi 40 anni e io avevo 9 anni allora, adesso ne ho 49. Però come vedete Rocky 3 è rimasto, sopravvive bene, anzi cresce bene, vi faccio vedere un po' le tre uniche foto che ci dietro e io ero lì insieme a tante altre persone a vedere con mio padre e mia madre Rocky 3 e ne rimasi estasiato. Allora vediamo innanzitutto, prima di vedere il desktop, spostandoci un po', ecco, Rocky e Michi che si allenano, Rocky che finalmente vince e poi la statua di Rocky a Philadelphia, ma anche questa ha una storia. Abbiamo detto che Rocky 3, questo è il pressbook, però lo vedremo meglio, è in America uscito il 28 maggio dell'82, in Italia c'è stata una specie di doppia uscita il 10 settembre dell'82, sicuramente noi siamo andati, anche perché purtroppo qui non abbiamo scritto niente, stranamente non c'è nessuna nota, quindi non ho certezza di quando è stata fatta la prima, però sono sicuro che era settembre dell'82 perché non andavo a scuola e potevo stare fino a tardi a vedere alla sala, credo all'Anica o da qualche altra parte. Subito alcune curiosità, insomma ci fu la consacrazione di molti personaggi come Alcogan, Thunder Lips, vi ricordate, no? Dal Labrador Nanti al secolo Teddy e Bollea che salutiamo e anche un po' di Mr. T che comunque già con l'A-Team aveva fatto il suo successo e in effetti le scene di allenamento di Mr. T rispondono molto alla vita che aveva fatto T.J. Baracus di grandi sacrifici. Ci sono tante cose in questo film, ma la cosa importante è che cosa succede? Ah, per esempio il flipper che vediamo di Rocky esisteva davvero e esiste davvero, si può ancora comprare, ci sono persone che li aggiustano, li mettono a posto, sarebbe un sogno averlo. Diciamo che con questo Rocky, nell'82 che apre un po' gli anni Ottanta, Rocky Balboa diventa muscolare, cioè abbiamo un altro tipo di fisico di Stallone, non è più quel ragazzone, sì grosso, pesante, insomma circa 90 chili, 85 e per avere questo fisico Stallone si sottopose a un allenamento massacrante, tant'è che perse 20 chili, noi abbiamo uno Stallone con 20 chili di meno. La questione di vieti, il film in alcuni paesi fu vietato ai minori di 12 anni, in Italia no e infatti io lo vidi tranquillamente a 9 anni. Gli incassi, il primo weekend d'apertura incassò, pensate, 16 milioni e 15 mila 408 dollari dell'82 solo in America. Negli Stati Uniti in totale, diciamo e poi ha avuto ovviamente, questo dato si aggiorna con le nuove tecnologie, le piattaforme, i vari modi di vederlo e di comprarlo, guadagnò in totale 125 milioni e 49 mila 125 dollari, mentre nel mondo l'incasso totale fu di 270 milioni di dollari e per la prima volta, Adriana, Adriana, diventa Adrian e non più Adriana. Dunque, anche per quanto riguarda i doppiatori c'è da dire una cosa, qui abbiamo Ferruccio Amendola che doppia stallone come in Rocky 2 e come anche in Rocky 3 che vediamo oggi e anche Rocky 4, mentre in Rocky 6 e in Rocky Balboa no nel 2006 purtroppo perché non c'era più Ferruccio Amendola, ma ricordiamoci sempre che il primo Rocky fu doppiato da Gigi Proietti. Nel 2006 invece Rocky Balboa viene doppiato anche molto bene da Massimo Corvo. Allora, andiamo a vedere il pressbook, bianco con la scritta nera, non ci sono sconti. Rocky 3, in nero, quale cosa li fanno sul serio? Scopriamo una produzione, Robert Chartoff, Irving Winkler, sono sempre gli stessi, Rocky 3, con Sylvester Stallone, Italia Shire, Barty Young, Carl Wethers, squadra che funziona, non si cambia e Bargues Meredith, grande nel ruolo di Mickey. Direttore della fotografia Bill Butler, musiche di Bill Conti, grande maestro, prodotto da Irving Winkler e Robert Chartoff, scritto e diretto da Sylvester Stallone, Panavision, durata, originale 99 minuti, distribuito in Italia dalla United Artists Europa. E vediamo quello che c'era in questo preziosissimo pressbook. Ecco, vediamo personaggi e interpreti, li faccio scorrere così poi ve li vedete anche in slow motion le note di produzione. Io ve lo faccio vedere tutto il pressbook. C'è una pagina, sì e una pagina no, guardate, poi ve lo vedete in slow motion, così acquisite dati che sull'enciclopedia digitali, ma anche cartacee, non trovate appassionati di cinema, di Stallone e di Rocky. Io ve li faccio vedere, digitalizzo, faccio tutto questo lavoro apposta, per i posteri, 31esima puntata di Cianote del Pressbook, ecco, Sylvester Stallone nell'82 era questo, leggetelo, e poi Tagliashire, Barty Young, Poli, tutto quanto, Carl Weathers, Apollo Creed, Bargues Meredith, Mr. T, lo chiamano Mr. T e tutti coloro che hanno lavorato nell'affascinante cerchia di celebrità dello sport e dello spettacolo conoscono il suo nome. Ha lavorato come guardia del corpo personale di Elon Spinks, Muhammad Ali e Michael Jackson e Lever Barton, tanto per citarne alcuni. È considerato la guardia del corpo. Andiamo avanti perché il tempo passa, già sono passati 8 minuti e 35, i produttori Robert Chartoff e Irvine Winkler, poi potete leggere meglio in slow motion, ok, la firmografia, ovviamente dei produttori, guardate che roba ragazzi, insomma non male, eh, i toloni. E qua c'era una tasca per mettere queste foto. Quali foto? Adesso le vediamo. Guardate che belle, queste sono copyright free e le potevamo utilizzare. Sta l'una che ricomincia ad allenarsi con Bargues Meredith, con Mickey, alla vecchia maniera. qua c'è la vittoria di Rocky e qua c'è la famosa inaugurazione della statua. Allora, rimaniamo su questa foto perché su questa statua, io mi sposto, però bisogna, aspettate che metto bene la luce, così la vedete bene. Siamo a Filadelfia, eccoci qua. sulla statua bisogna dire qualcosa di più, perdonatese ogni tanto. Allora, la statua di Rocky, la statua di Rocky, la statua di Rocky. Durante la fase di preproduzione della terza pellicola dedicata appunto a Rocky Balboa, Stallone ha fatto creare apposta dallo scultore Thomas Schoenberg una statua di bronzo, questa statua di bronzo, che raffigura il campione con le brazze alzate al cielo. L'opera è alta 2 metri e 60 centimetri e era stata collocata in cima ai famosi scalini del Museum of Art di Filadelfia, che conosciamo tutti, e scenografia storica anche dei precedenti Rocky. Qua vediamo l'inaugurazione, no? Una volta terminata la ripresa, Stallone decise di donare l'opera alla città, che in fondo l'aveva adottato, aveva adottato il suo personaggio. Rocky e Filadelfia. Il sindaco della città decise di lasciarla davanti all'ingresso, ma poi, dopo le proteste dei famosi critici d'arte che ritengono la statua non un'opera ma un semplice elemento scenografico, si è optato per trasferirla davanti allo Spectrum Arena del basket di Filadelfia, che è stato scenario dei primi tre film di Rocky. Poi è stata riposizionata in cima alla scalinata per i film Rocky V, Manneken e Filadelfia, pensate, e fu di nuovo installata di fronte allo Spectrum. L'8 settembre del 2006, poi, la statua è stata riposizionata in cima alla scalinata del museo e negli anni 2020, quindi recentissimamente, viene posizionata definitivamente sotto la scalinata lateralmente. Centro sulla statua di Rocky, nel 2002 viene utilizzata come personaggio giocabile del videogioco Rocky usciti per PlayStation 2. Nel 2006, IE, punto esclamativo, ha classificato la scena della scala di Rocky al tredicesimo posto della classifica dei 101 migliori momenti di intrattenimento. Vediamo se c'è qualche curiosità in più. Io sto guardando su IMDB, ovviamente, su Encyclopedia Digitali, Wikipedia che ringraziamo sempre, e sosteniamo sempre Wikipedia. Ah, la canzone Eye of the Tiger, eseguita dai Survivor, presente nel film, ha avuto un grande successo, e tuttora si sente spesso, quasi ogni giorno, no? Proprio per questo, nell'83, ha collezionato due nomination in due delle cerimonie più importanti nel panorama scenato da caffè come mondiale, l'Oscar e il Golden Globe. Ok? Quindi, che dire, poi viene Rocky 4, che per tanti di noi è il preferito. Si conclude così anche questa puntata di C'era una volta il Pressbook con il Pressbook di Rocky 3, semplice ma bello, bianco, perfetto, lindo, pulito. Abbiamo anche i guantoni da basket. Noi vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento alla prossima puntata di C'era una volta il Pressbook, il vostro dottor Pressbook. Vi saluta, Emanuele Carioti, e... Ciao ciao! Ciao! Grazie a tutti.